Lo scenario è quello di ogni day off, una città dove automobilisti, centauri e perfino pedoni si muovono con difficoltà e rischi a causa di quartieri con le strade bombardate, buche profonde e anche pericolose quando sono piene d'acqua. Pioggia e maltempo si confermano quindi tra i peggiori nemici dei comuni con le casse al verde, costretta a raschiare il fondo del barriere per mettere toppe di bitume qua e là, in questo caso sulle strade di vittoria ridotte ad autentici colabrodo per alcuni giorni di pioggia. Occorrono risorse che evidentemente né le passate amministrazioni né quella di oggi possiedono, risorse che permetterebbero di affrontare in maniera radicale una volta per tutte il problema con l'asfalto sempre rattoppato ma che va in pezzi senza un minimo di resistenza alle prime gocce d'acqua o al caotico traffico del centro cittadino. Rimedi semplice, procedere a passo d'uomo, aguzzare la vista perché si può anche rischiare di finire dentro una buca, restarci e poi sperare di arrivare senza danni a destinazione.